In Italia solo il 19% dei 106.000 giornalisti iscritti all'ordine ha un contratto di lavoro dipendente. Il resto deve fare i conti con precarietà, assenza di diritti e tutele economiche. È il dato, poco confortante, da cui hanno preso le mosse gli Stati Generali dell'Informazione Precaria, organizzati a Firenze da Sostampa Toscana. Dai precari della nostra regione, la terza in Italia per numero di giornalisti non contrattualizzati, tre le richieste rivolte alla politica e agli organismi di categoria. I precari, i freelance, sottopagati, i parasubordinati che sono dei veri e propri redattori mascherati o che ormai come numero hanno superato quello dei giornalisti garantiti da un regolare contratto chiedono diritti, chiedono un compenso equo e chiedono dignità. Al centro della discussione anche le possibili soluzioni, da alcune esperienze positive avviate in altre regioni all'attesa definizione dei parametri economici della legge sull'equo compenso approvata dal Parlamento nel dicembre scorso. Questo è un passaggio molto importante che si gioca a livello nazionale ma che ha bisogno della spinta poi delle realtà regionali per arrivare a un risultato. Presente all'incontro anche il sottosegretario all'infrastrutture ed ex giornalista Erasmo D'Angelis che ha assicurato l'inserimento nel Job Act di specifiche misure contro il precariato nel giornalismo. Un giornalista su 5 è tutelato, il resto vive in una giungla retributiva davvero preoccupante quindi nel Job Act rientra sicuramente anche questa categoria con tutele.